ciao ragazzi oggi è domenica 23 luglio 2023 e stiamo andando a bayreuth finalmente e queste sono le stradine che praticamente ci sono tra salisburgo e passau nella zona della zona alta di salisburgo che sono veramente dei posti caratteristici molto 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 belli adesso vediamo se finiamo nelle campagne come l'anno scorso come tutti gli anni ma paesini proprio specifici caratteristici molto belli grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Tra un chilometro, gira a sinistra. E qua c'è un navigatore in certi punti perché non è semplicissimo. Qua ti fa... Minga no, ti fa andare in mezzo ai campi. No, vediamo, vediamo in diretta se posso. Gira a sinistra, qui mi gira a destra. Gira a destra. No, veramente... Tra 1,6 km, gira a destra su Pondoltre Strasse. Cioè, veramente ci sta facendo andare nei... Ma perché ci fa sempre andare nei... Oh, ci fa sempre tagliare nei campi, eh. Vedete? Adesso se ne avete la riprova. No, no, ma sono strade... Sono strade normali, eh. Però... Siamo in mezzo al... Beh, in mezzo alle casette. Figata, guarda che bello. In mezzo al nulla. Tra 1 km, gira a destra su Pondoltre Strasse. Poi si... Ahia, poi si dovrebbe ricollegare... Uno stradone, sì, teoricamente. Ah, forse è là. Schi imbecilli come van veloce, però. Questi sono austriaci, eh. Non dimentichiamolo. Gira a destra su Pondoltre Strasse. Ah, forse ho capito. Sì, sì. Dai, vi facciamo un video ancora un pezzettino, dai. Tra 700 metri, gira leggermente a sinistra. Dai, questo video è un po' lunghetto, però, cioè, beh, dai, ci stavo. Più che altro che sono bei posti da riprendere, ecco perché. Peccato non fa la pausa l'iPhone, questo grande difetto. Se c'è la pausa, si può dirla. Gira leggermente a sinistra. Qua? Dove cazzo ci sta portando? Tra 700 metri, gira a destra su Bergamo Giseckels. No, no, ragazzi, qua vi dovevo fare... Qua è un video molto lungo, mi sa. No, perché... Andiamoci contro dove cazzo ci sta portando. Per andare a RID. No, poi andiamo a RID davvero, no, scazzi. Bergamo. Ci sono proprio paesini, eh. Tra 350 metri, gira a destra su Bergamo Giseckels. No, qua passiamo proprio dove volevo filmare l'anno scorso. No, ma ti ci fa passare per forza, cioè... La cosa divertente è che ci passi... Comunque. Qua... Gira a destra su Bergamo Giseckels, e quindi gira a destra. Guardate che belle ste case, oh. Cioè, piacere per la... Gira a destra su Bergamo Giseckels. Gira a destra, quindi gira leggermente a destra sui Tentalweg. Qua? No, perché c'era un... Eh, forse è qua, forse è qua. Gira leggermente... E qua, è qua, è qua. Ah, infatti riprendo perché... Gira leggermente a destra sui Tentalweg. Tra 900 metri, gira a sinistra. Boh, ragazzi, adesso stacco perché... Minchia. Però, minchia. Guardate che roba! Guardate dove siamo! No, no, aspetta, che staccare? Guarda qua, qua sono quasi 10 minuti di video. Cioè, guarda che roba! Guarda, è pure la merda di cavallo, mi sa. Cioè, qua uno può fermarsi veramente a far col... Eh, no, sì. Pure il gatto. Assurdo. No, 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 assurdo. È proprio questa strada qua. Cioè, non è che dicevi sbagliato. Tra 500 metri, gira a sinistra. Oh, madonna, diventa pure... No, diventa pure sterata, ma veramente, ragazzi, va... Assurdo. Piano, 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 piano. È assurdo, però, eh. Cioè, ragazzi, non è una presa per il culo, eh. Vedete anche voi, ma è anche roba. Cioè, roba da mangi. Vabbè, dai. Continua su Danceright.